Seconda edizione dell'American Cup, una grande cornice di pubblico per una finale che è 16 rigori. Una bellissima finale, poi i giocatori comunque sono tutti professionisti, tutti quanti che giocano comunque professionalmente a calcio. È stata una bellissima partita, secondo me hanno fatto bene arrivare i rigori perché è stato molto più emozionante. Innanzitutto voglio ringraziare Vincenzo che ci ha dato la possibilità del campo di far sì che quest'anno venisse svolto qui il torneo, voglio ringraziare tutti i nostri sponsor che ci hanno dato la possibilità che il torneo venisse svolto anche quest'anno, ma un grazie anche al pubblico, grazie veramente a tutti, è stata una bellissima edizione e speriamo che il prossimo anno il nostro augurio è quello che si possa ripetere tutto questo anche il prossimo anno. Vincenzo Jovine, l'American Cup qui è un altro appuntamento, questo è il secondo appuntamento però non è la fine perché ci sono sempre tanti tornei qui ogni anno e si può dire non solo d'estate. Sì, in effetti sono uno dei calcetti che durante l'inferno mi tengo impegnato con il campionato infernale, anche come quest'anno inizierò la quindicesima edizione del campionato infernale che faccio già da ben 15 anni, poi l'estate la dedico un po' ai tornei. Quest'anno già c'è stato, oltre all'American Cup, c'è stato il memorial di Mimmo De Rosa e Antonio Piutagnetti che ricorre ogni anno due cari amici che sono scomparsi, ho fatto un torneo Under 15 che è ancora in corso e c'è anche il San Giuseppe Cup, un torneo parrucchiale che comunque stanno alle fasi finali. L'American Cup è stato uno dei più prestigiosi in quanto gli atleti che hanno partecipato hanno avuto un livello un po' più alto rispetto agli altri tornei. Ringrazio i ragazzi che hanno organizzato, gli sponsor, agli atleti tutti, ma anche al pubblico che ogni sera è a corso o in tanti a seguire le partite come se fosse un mondiale, un mondiale del paese. Tanta gente soprattutto vedere per una partita amatoriale fa sempre piacere, vuol dire che uno ha lavorato bene e ha organizzato un bel evento. Qui a San Giuseppe Nato Aversa abbiamo visto grande pubblico, stasera veramente sembrava un derby perché c'erano tanti amici in campo e anche fuori, però tutti volevano vincere alla fine si è deciso i rigori con un grande pathos finale. Sì, 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 una bellissima partita decise i rigori che in effetti è stato forse ancora più bello. In campo tanti amici, giocatori che si conoscevano, che si stimavano, rispetto anche per chi è che ha fatto le squadre, il pubblico comunque anche se era presente nel campo è stato molto corretto e in effetti è stata veramente una bellissima finale, finita veramente nel miglior dei modi. Ovviamente alla fine c'è sempre un solo vincitore, forse ha vinto la squadra più forte, forse no, questo non lo sapremo mai, ma comunque alla fine l'importante che ha vinto lo sport è le persone che sono accorse a seguire questa partita questa sera.